Salve a tutti amici di Cooper e bentornati in un nuovissimo video su Escape from Tarkov Avevo detto che, mi sembra, l'ho detto, non lo so, forse l'ho pensato, ma sono pazzo Che avrei riportato un video quando sarà stato più giocabile Allora, il fatto è che ho giocato due partite scav E, insomma, sono andate bene senza lag, ho fatto un pochettino di roba, questa poca roba qui E nulla, insomma, era andato bene, però poi sono andato a fare un PMC ed esincava tutto Quindi, riproviamo scav su factory e vediamo un po' come va No, bene, se non ricaricavo andava bene, però ho ucciso uno, è stato bellissimo Insomma, è stato un qualcosa di molto veloce Mi sono dimenticato di dire qualcosa quando è partito perché era un po' troppo concentrato Anche nel caricamento E nulla, allora, io direi di prendere a questo punto la pistolina Portarmi su un po' di colpi, mi porto due caricatori E credo che si possa andare benissimo in questo modo Mi porto questo E via Ok E, comunque, vi volevo dire che Cosa vi volevo dire Ah, sì, che ho Se siete Insomma, se avete messo mi piace Insomma, se seguite la mia pagina Facebook Del canale Sapete che ho chiesto agli sviluppatori Se era possibile avere quell'account che c'hanno i youtuber Per portare i video, eccetera E loro mi hanno detto Di no perché non sono membro di una cosa E tipo Forse devo avere più iscritti Devo avere più visibilità Però Io dico Cazzo, sono un canale da 108 iscritti Rispetto agli iscritti Le visualizzazioni sono tantissime Fate un... Insomma, datemelo, dai Cioè, vi ho fatto anche un favore A portarvi questo gioco Insomma, a portare questo gioco A farlo diventare Il gioco principale del canale Allora, io Io me ne vado Tipo di qua Così salgo Sopra le scalette Ok E non mi voglio far sentire Oh, cazzo Non ti bloccare Ok Allora Tutti Io potrei avere Sottomira Sia quello che quello sopra Bene Una tirata Un'accettata Qualche due Eh 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 Paurissima Oddio Infarto Oddio Oddio Aia Da dove Da dove Da dove Da dove Da dove Da dove Non capisco Aiuto 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 Ai 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 Dolore 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 Ah 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 Perché? Cioè non capisco se dessi in cavo se succedeva qualcosa Ma non c'era nessuno Va bene Ottimo Allora Ci siamo Prima a me sembrava Piuttosto desync Perché alla fine ero coperto Da moltissime parti E sono morto comunque Si sparano Quindi salgo Che cosa sono E allora Ok A me sembra Ok ho visto uno correre là Vorrei tanto accendere la torcia Così acceco tutti Però il fatto è che mi vedono anche tutti Dicevo morto Ok Ok allora Sono piuttosto concentrato Perché sento passi Te ho visto Ah mi sa che tipo si è lanciato Quanti colpi ho? Dieci Questo che Ci posso prendere delle Avveniti colpi Avveniti colpi Ok Eh no Sto ricaricando ancora Ok 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 Grazie. Ok, vediamo se siamo più intelligenti e facendo il giro Ok, lui è dentro Oh, cazzo Oh, cazzo, sono vivo Non mi sono rotto le gambe Ah Ho fatto il casino Sono in due, sono in due Sono in due E li ho ammazzati entrambi Oddio Ma che cazzo Controlliamo che non ce ne siano altri Ma che cazzo Non so che cos'è questo Quindi lo si mette lì No, discard Ok, lo stava esaminando In testa non aveva nulla Se una parte è quella Vai Ok Ok, c'ho questo Oh, mamma mia L'infarto Quanto mi è sbocato Quello quell'altro Non mi interessa Ok Come sono messo a vita Sembra bene Ok, vediamo ora Se riusciamo ad uscire Se riusciamo ad uscire Perché sinceramente Non ho il miglior Shotgun del mondo Ok, è già aperto Via ci si fionda dentro Ok Ok Va bene Sì, abbiamo preso Non esce Ok, quindi sto desincando Un pochettino Ah Ah no, ok Sì, stavo desincando Un pochettino Insomma, dai Oh, finalmente Dopo tanto tanto tempo Un ride è andato bene Senza problemi di lag A parte alla fine Del desinc momentaneo Dell'uscita Però in sostanza È andato bene Perché Abbiamo preso Diverse cose Un po' di Di vest Una Una VS Con Vabbè Tanti colpi Dentro E Poi Questo che cos'è Poi un paca Soprattutto il paca Ah Chiavi di macchine Uh Allora, lo riparo Ok Quindi Sì Vediamo questo Inspect Ok Delle chiavi di macchina Della macchina Quindi E sono viola Quindi Significa che Potrebbero essere Delle chiavi rare Non lo so Quindi niente Ragazzi Che dirvi Ci è andato bene Questo ride Se dio vole Il primo andato Insomma Abbiamo ucciso uno Poi siamo morti Stanto per la ricarica Quello dopo Non ho capito Cosa è successo E questo è andato bene Con questa pistolina Quindi insomma Sì Da una pistolina Ne ho preso due shotgun Questa roba Due Due vesti Due vesti Il pack Andata bene Andata bene Sono contento È da tanto Che non facevo Un ride Che andava bene Quindi Che dirvi ragazzi Per questo è tutto Se vi è piaciuto Vi lascio Vi invito A lasciare Un mi piace E andate Andate a seguire La pagina facebook Perché lì Pubblico Notizie Cose Come dico sempre Però non diciamo che La dovrei pubblicizzare Inizio video Però Sinceramente Non me lo ricordo mai E non è che mi va Tanto di pubblicizzare Cioè la pubblicizzo Spesso Nei commenti Quindi nulla Io vi ringrazio E ci si vede Al prossimo video Ciao Ciao